Svilimento del ruolo del Consiglio Comunale e totale sordità alle stanze dell'opposizione. È questo il quadro sintetico del dossier redatto dalle forze di minoranza in Consiglio Comunale a Capannori ad un anno dall'insediamento dell'amministrazione Menesini-Bis. Secondo i componenti dei gruppi consigliari di Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, la maggioranza sta facendo costantemente ricorso alla forza dei numeri senza prendere in considerazione nessuna delle mozioni presentate dalla minoranza. Esattamente perché come ho avuto modo già di dire le ragioni della forza prevalgono sulla forza della ragione. Noi abbiamo sempre avuto un atteggiamento propositivo in qualsiasi tema purtroppo questo atteggiamento collaborativo dell'opposizione è stato sempre respinto dalla maggioranza. Diversi gli esempi presentati durante la conferenza stampa che si è svolta simbolicamente proprio di fronte al nemiciclo del Consiglio. Alcune proposte presentate dall'opposizione caratterizzate dalla ragionevolezza sono state immotivatamente respinte. Faccio un esempio per tutte. La delibera sulla proroga dei termini di versamento dell'Imu avevamo presentato degli emendamenti che sono stati rigettati e erano emendamenti che avevano lo scopo di ampliare la platea dei beneficiari di una misura che poteva aiutare ancora di più i cittadini di Capano in difficoltà per questa crisi del coronavirus. Tra le obiezioni sollevate dalla minoranza anche quella del ruolo del Presidente del Consiglio Comunale ritenuto in troppe occasioni non abbastanza imparziale.